Buongiorno a tutti, sono Riccardo Francone, sono il sindaco di Bagnara di Romagna. Mi trovo proprio in uno dei luoghi più suggestivi di questo borgo medievale che tanto amo e che spero conosciate, siamo nella Rocca Sforzesca. Bene, forse proprio perché Bagnara è un borgo storicamente molto importante, ho amato in questi anni occuparmi come referente politico delle politiche culturali e insieme ad esse delle politiche giovanili. Per quanto riguarda le politiche giovanili in questi anni abbiamo lavorato davvero tanto per quanto riguarda almeno due macro temi, il primo punto è quello della legalità e il secondo punto è quello del pro-working e dell'informazione. Per quanto riguarda la legalità tanto si è fatto sui temi della criminalità organizzata e del gioco d'azzardo, si è lavorato insieme a tante associazioni esterne e molto nelle scuole di ogni ordine e grado. Abbiamo lavorato però anche tanto sul pro-working e sull'informazione, quindi delle attività, ne cito almeno due veramente diciamo di successo, eroi di impresa e ingranaggi musicali con i quali abbiamo contattato gli adolescenti e i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Abbiamo allo stesso tempo avvicinato le aziende e le industrie proprio a questo mondo. Insieme a questo lavoro abbiamo certamente sviluppato una componente del diciamo così social e comunicativa che è Radio Sonora Social Club, che è un nostro compagno di lavoro in tutte le nostre avventure e una fra queste sicuramente il Festival delle Radio Web e l'Infobus che abbiamo inaugurato circa un anno e mezzo fa. Per quanto riguarda invece le politiche culturali, un grosso lavoro è stato fatto a livello di coordinamento fra biblioteche e musei, per cui in questi anni abbiamo unito le forze per realizzare tanti progetti comuni, per promuovere la lettura e promuovere la visita e la conoscenza di tutti i nostri tanti musei del territorio e insieme a queste abbiamo realizzato la prima edizione di Terrena, quindi un grande festival per tutti i nostri comuni.